RESID TEAM hanno dato il meglio di si sotto ogni aspetto il prodotto finale vanta una potenza di 730 cavalli erogati da un motore V8 con albero motore piatto insieme ad un'aerodinamica attiva e a un design che deriva direttamente dall'attuale auto da corsa Ainge GT3 i modelli Black Series sono rarità automobilistiche esclusive non vengono sviluppati per scomparire nei garage dei collezionisti bensì per essere guidate con il massimo dinamismo sui circuiti chiusi al traffico nonostante l'omologazione per la circolazione su strada nel solco della tradizione Ainge GT Black Series fa segnare un nuovo record si tratta infatti della Mercedes Ainge più potente dotata di motore V8 di serie per sottolineare la rivisitazione di questa supersportiva gli specialisti hanno perfezionato ulteriormente il collaudato biturbo da 4 litri il motore eroga una potenza di 730 cavalli a 6.700-6.900 giri minuto e sviluppa una coppia massima di 800 Nm a 2.600 giri minuto garantisce prestazioni sorprendenti la Due Posti raggiunge i 100 km orari da firma in 3,2 secondi e i 200 km orari in meno di 9 secondi la velocità massima tocca i 325 km orari il consumo di carburante combinato è di 12,8 litri per 100 km e le emissioni CO2 combinate di 292 g a km l'affinità con i modelli da corsa Ainge GT 3 e Ainge GT 4 è quanto mai evidente sia dal punto di vista tecnico che estetico a cominciare dalla nuova presa d'aria nettamente più grande che deriva direttamente dall'auto da corsa Ainge GT 3 lo splitter frontale in look carbonio è regolabile manualmente su due livelli street e race quest'ultimo esclusivamente per l'impiego in pista adattandosi quindi alle diverse condizioni del fondo stradale un elemento preso direttamente in prestito dal motosport è anche il nuovo cofano motore in carbonio con due ampie aperture di sfiato ed un altro dettaglio interessante è il flap mobile dell'elemento superiore dell'alettone gli interni sono stati concepiti per sottolineare la posizione di spicco di Ainge GT Black Series la pelle Nappa Exclusive è abbinata alla sportiva microfibra dinamica nera e a cuciture decorative in arancione di contrasto anche il volante Performance Ainge è stato preso in prestito dalla famiglia Ainge GT la nuova coupé ha un prezzo decisamente superiore a tutte le altre GT è infatti proposta a partire da 335.240 euro Reset Team